La guerra è finita! Ma che ti ha fatto? Chi? Otello! Chi è Otello? Tuo marito! Io non ho mariti, io non ho più niente! Oddio! Dove avete preso questo fazzoletto? L'ho trovato! L'unico sollievo che mi resta è odiarla! Questo è il regalo di qualche tua nuova amica! L'hai uccisa tu con i tuoi racconti! Non sei più logo tenente! Non farò mai più una cosa del genere! Ognuno dovrebbe essere quello che sembra! E quando non lo è non dovrebbe neanche sembrarlo! Sto attento alla gelosia signore! È il mostro dagli occhi verdi che si nutre della sua stessa carne! Qual è il sospetto? Qualche gelosia verso di te! Ma dai, non ne avrebbe motivo! E serve il motivo, chi è geloso è geloso e basta! Vi siete messi in testa qualcosa che non esiste! Bene! Le Natale! Le Natale! Iniziamo! No! Il Natale! Ci sono uno!